www.redigio.it e la storia continua Vita quotidiana, una casa di donna Maestri di stile Il ruolo svolto delle donne nella diffusione degli stili artistici e delle modi esse è sempre stato rilevante Infatti le fanciulle aristocratiche o altoborghesi quando erano destinate a sposare ricchi mercanti, nobili o persino regnanti di paesi lontani trasferendosi le nuove dimore finivano per ricreare, per ragioni psicologiche e culturali il gusto estetico del loro luogo di origine facendosi promotrici di mode destinate ad avere maggiore o minore successo nel paese di adozione a secondo del rango della dama Basti pensare a personaggi quasi quali Isabella d'Este e Maria de' Medici senza le quali la produzione artistica del loro tempo forse sarebbe stata sensibilmente diversa Che alla fine del Medioevo le capacità intellettuali delle donne malgrado il diffuso maschilismo non fosse totalmente disconosciuta è testimoniato anche da qualche opera letteraria significativi a meno due libri Il De Mulieribus Claris del 1362 di Giovanni Boccaccio del quale sono delineati 104 ritratti di donne famose e La Cité des Dames 1404 scritto da Christine de Pisan italiana di nascita e francese di educazione la quale pur traendo le mosse del testo Boccaccesco si ne distacca rivendicando polemicamente la capacità delle donne a operare con virtù e saggezza ma anche con abilità manuali visto che le miniature contemporanee che illustrano il suo libro ci mostrano donne che costruiscono edifici lavorano in legno eccetera è pari a quello degli uomini apertamente accusati di misoginia con aveemenza da molti definita proto-femminista Un omaggio diretto, anche se non dichiarato allo spirito creativo delle donne lo possiamo ritrovare in moltissime opere pittoriche dalla fine del Medioevo che forniscono un resoconto veritiero e coerente dell'arredamento dell'epoca e alcuni soggetti tuttavia sono più interessanti di altri perché in essi è leggibile un sottotesto che riguarda da vicino il ragionamento che stiamo facendo il suo mondo in una stanza Se si confronta il contenuto della letteratura pedagogico-dottrinale che circolava tra il XIV e il XV secolo indirezzata alle donne nubile e maritate con le pitture che raffigurano l'Annunciazione è possibile notare una curiosa ma non sorprendente analogia di intenti In effetti tali rappresentazioni ambientate negli interni domestici studiolo, camera da letto o nel giardino dove tuttavia la caratterizzazione ambientale è minore possono essere interpretate come illustrazione di quelle pagine La Vergine è colta sempre in atteggiamento che traspare modestia compostezza di modi e spirito di obbedienza cui ogni donna si sarebbe dovuta ispirare mentre gli ambienti che nel corso del Quattrocento raggiungeranno una descrizione minutamente realistica così eleganti, puliti e comportevoli appaiono nel modello della perfetta conduzione domestica Vari pittori nelle loro annunciazioni testimoniano l'altro grado di comfort L'ordine, il decoro e la bellezza che le donne riuscivano a imprimere alla casa della cui gestione gli uomini non volevano occuparsi ritenendola disdicevole come scrive l'Albertini nei libri della famiglia Pure io non posso darmi a credere che gli uomini occupati di cose non femminili stia bene a essere e mostrarsi tanto curiosi circa queste tali infime masse riziole domestiche Dunque pur non esistendo una documentazione diretta non dimentichiamo che la gestione economica familiare spettava il marito per cui i contratti con gli artigiani e relativi pagamenti venivano effettuati soltanto da lui anche se era la moglie a decidere scegliere e suggerire Il gusto di questi arredamenti il raffinato coordinamento dei tessuti e delle decorazioni sono quasi sempre ascrivibili all'intervento femminile È possibile che alcune soluzioni di arredamento siano anche il frutto della fantasia dei pittori ma la disposizione dei vari elementi la ricorrente presenza di alcune tipologie di mobili e l'uso dei tessuti alla moda testimoniano che le stanze erano quasi sempre riprese dal vero Significativa nella descrizione degli ambienti sono anche le rappresentazioni delle nascite quelle di Maria o del Battista e le scene di genere galante o familiare al cui centro è quasi sempre la donna che mostrano interni e giardini spesso bellissimi nei quali il racconto di un avvenimento religioso profano si esprime più liberamente restituendo spesso nella vivacità della scena e nel disordine degli oggetti un gusto per la quotidiana un gusto per la quotidianità assai vicino alla realtà della vita www.redigio.it e la storia continua Grazie a tutti.